Comune di Lonate Cieppino per una prova di transito grazie a Whisky2bcx Grazie a Whisky2bc Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Buongiorno a tutti Possiamo iniziare tagliati con due lima Proviso a parte del rettore Alberto Chiama dal prefettore di Varese Chiamerò i Comuni Vi chiedo di dare un rapporto Sia sul ponte e diretto Se ci mi sentite E io vi darò i vostri rapporti Ponte e diretta Iniziamo quindi con Varese Sacromonte Ebego Romeo 5-9 per Sacromonte Con ringraziamento Con tutto il ricordo Perché oggi è l'anniversario del compleanno Dell'Onorevole Zoperletti Buona giornata a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti CiccacolioQGR 5-9 per te Sul ponte 5-9 Anche diretta Proseguiamo con Varese Municipio Da Varese Municipio Buongiorno Sono India Unico 2 Lino WhiskyAS Sono qua insieme alla signora dottoressa Palmieri, responsabile della protezione civile di Varese, io vi ricevo 5-9 sul ponte e 5-9 in diretta. Grazie, buongiorno ancora dottoressa Palmieri, il rapporto per te è 5-9 in diretta e 5-9 sul ponte. Passiamo al comune di Agra. Sì, buongiorno, qui Z2 GMS dal comune di Agra, 5-9 e 5-1 in diretta. A te, Fabio. Grazie, comune di Agra, il rapporto per te è 5-9 sul ponte e 5-5 in diretta. Comune di Avizzate. Comune di Avizzate. Comune di Avizzate. Il ripetitore è 5-8. Negativo, comune di Agra, il rapporto per te è 5-9 in diretta, ma non sei legibile, neanche in diretta, sei legibile, quindi non ti riesco a guardare il rapporto. Comune di Vesano. Comune di Vesano. Il rapporto per te è 5-5 in diretta e 5-5 anche sul ponte, sei molto bruciato. Passiamo a Besnate. Il rapporto per te è 5-9 in diretta e 5-9 anche sul ponte e 5-2 in diretta. Il rapporto per te è 5-9 in diretta e 5-9 in diretta. Il rapporto per te è 5-9 in diretta e 5-9 in diretta e 5-9 in diretta. Il rapporto per voi, sia in F1 sia in F2. Grazie a Besnate. Il rapporto per te è 5-9 in diretta e 5-9 in diretta e 5-9 in diretta e tu arrivi fortissimo. Comune di Cadrezzate. Comune di Cadrezzate. Comune di Cadrezzate. Comune di Cadrezzate. Non riesce ad avviare il ponte. Comune di Caigate. Sì, buongiorno Albert, 177 dal Comune di Caerano. Rapporto segnale ricevuto, 5 nove sul ponte, 7 in via Renta. Presidente, signori Marco Ceccometti, del coordinatore della votazione Cile di Caerano, e un ringraziamento per lo svolto dei volontari per il riflessio dell'antena. Saluti a te, a Giannino e al viceperfetto dottor Pasqualello. Buon procedimento a tutti, se c'è 3 da il K2, le città di Caerano. Va bene, non si crea che la scuola è il prefetto della provincia di Varese. Dovunque si sta facendo una risata a te, a te, a te, a te, si crea che la scuola è il prefetto. Buongiorno a tutti, sono collegato anch'io, mi fa piacere essere nominato anche viceprefetto perché sono stato a lungo una vita, quindi nessun problema, anzi sono fiero dell'attività svolta da viceprefetto perché è stata molto molto dura, impegnativa e formativa. Allora, auguro a voi tutti una proficua giornata di esercitazione, stiamo facendo molto bene in questa provincia, naturalmente c'è una tradizione, c'è una storia e ringrazio soprattutto il fondatore dei Radio Amatori che è Giannino Romero, è qui accanto a noi. Buona continuazione, buona domenica e tantissimi auguri, buon Natale a voi tutti e alle vostre camicie. Bene. Allora, devo ancora dare il rapporto al Comune di Caravate, il rapporto 5-9 sul ponte, 5-5 in diretta e possiamo quindi proseguire col Comune di Caravate. Sì, qui Comune di Caravate, India Unicorn 2, Ron Oscar Fido Enrico, ti ascolto 5-9 sul ponte e 5-9 in diretta. Sì, qui Comune di Caravate, il rapporto 5-9 sul ponte e 5-9 in diretta. Comune di Caravate, il rapporto 4-3 sul ponte è veramente molto cruciato e si fa fatica a copiarti in diretta, negativo anche da parte nostra. Comune di Caravate, il rapporto 5-9 sul ponte e 5-9 in diretta. A voi il cambio con i saluti al signor profetto. Buona giornata a tutti e buona stessa. Grazie. Grazie, Ezio. Il rapporto per te è 5-9 sul ponte, 5-9 in diretta. Un ringraziamento anche a tutte le persone che sono presenti lì con te presso il municipio di Caravate. Passiamo alla Comune di Caravate, Sentiore. Il rapporto per te è 5-9 sul ponte e 5-9 in diretta. Un grazie anche alle persone che sono presenti lì con te. Passiamo al Comune di Caravate. Buongiorno a tutto il gruppo, buona scatletta. Non c'era quella di 5-9, tanto per voi che era un po' di caraviglio ripetitore, anche se è sicuramente un problema di transito. Il rapporto per te è 5-9 per te sul ponte e è negativo in diretta. Passiamo a Caravate, Compremezzo. Buongiorno a tutti, Italia 02, Comune di Caravate. Il rapporto è 5-9. Chiaramente il ponte arriva perfettamente, la modulazione è chiarissima. Com'è presente il rappresentante della protezione civile signor Andrea Micari e l'assessore alla sicurezza Diego Bonotto, che ringrazio per la disponibilità e auguro a tutti voi una buona giornata. Italia 02, Comune di Caravate, Caravate. Ok, grazie Caravate. Nel frattempo colgo l'occasione per mettere in testa da parte del prefetto che sta uscendo dalla prefettura in questo momento per raggiungere il Sindaco a Cavaria, Sindaco del Comune di Cavaria ovviamente, per un'inaugurazione e quindi verrà trovarvi a breve. Nel frattempo vi do il rapporto, 5-9 il rapporto sul ponte, in diretta, 5-5 in diretta. Possiamo proseguire con l'unicipio di Cittilio. In via, io ci sono due, nome è November 15, dalla sede della protezione civile di Cittilio, è l'operatore Alessio, insieme al coordinatore della protezione civile signor Antonio Cervino, il rapporto per voi è 5-9 sul ponte, 5-9 in diretta, cambio. Grazie, grazie Cittilio, il rapporto per te è 5-9 sul ponte, negativo in diretta, grazie anche ai rappresentanti della protezione civile che sono presenti. L'Italia è l'uniforme 2, il lima Florina Papa, nella prefettura di Varese, per la 34esima prova di sintonia dei comuni della provincia di Varese. Proseguiamo con la Comune di Crivio. Comune di Crivio. Andiamo avanti, Comune di Comerio. Buongiorno, un attimo di Comerio, di Comerio, il voto per te è la terza su India, nome dell'operatore Sergio, il porto per il rapporto è 5-9 sul ponte e 5-9 in diretta, cambio. Ok, grazie, l'apporto per te è lo stesso, 5-9 sul ponte e 5-9 in diretta, di Riu di Fortecchiano. Comune di Croce della Valle. Comune di Croce della Valle. Buongiorno, dal Comunicchio di Croce della Valle, di India, Giulio e Giulio e Papa Chepe, cooperatore a Mauri, occupa di sito del dottor Mauro Bortolussi, che ci ha aperto e garantito l'accesso ai locali. Comune di Croce della Valle. Il rapporto per voi è 5-9 sul ponte e 5-5 in diretta. Grazie. Grazie, Comune di Croce della Valle. Il rapporto per te è 5-9 sul ponte e 5-5 in diretta. grazie anche al sindaco che ha provveduto alla periega del segno. Passiamo al Comune di Cubio. Comune di Cubio. Negativo. Passiamo al Comune di Domenza. Buongiorno a tutti dal Comune di Domenza, Z2H1. Per voi il rapporto è 5-9 sul ponte e 0-1 in diretta. Buona giornata. Grazie, Z2H1. Il rapporto per te è 5-9 sul ponte e 5-2 in diretta. Arrivi comunque anche in diretta. Comune di Perno. KZ2 Chilasca Ruiz, operatore Giovanni, da Comune di Perno. Signale per voi. Signale del ponte, 5-9 sia sul ripetitore e 5-9 in diretta. Grazie, Berno. Il rapporto per te è 5-9 sul ponte. 5-2 in diretta. Municipio di Dallavate. Buongiorno a tutti. Il rapporto per te è il K2 di Giorgio. 5-9 sul ponte e 5-9 in diretta. Buongiorno a tutti e buona festività. Grazie, grazie. Abbiamo gli amuri. Per la parte è 5-9 sul ponte e 5-5 in diretta. Giannino mi dice di fare un ricordo del Presidente di Pialla Rate, Ettore Rosso, che è avanzato recentemente. Passiamo al Comune di Piazzana Piano. Piazzana negativo. Comune di Gemoglio. Buongiorno a tutti, qui da Italia Q2, Ienchi. Buongiorno, ufficio Nagato in compagnia della Polizia Locale, per noi 5-9 sul Ponte e 5-9 in diretta. Passi e bravo, il rapporto per te 5-9 sul Ponte e 5-2 in diretta, lo saluto anche agli operatori della Polizia Locale. Comune di Goracetta. Buongiorno, benvenuti in campanile. Sono qui in collaborazione con il signor Specchiarendi, che mi ha aperto alla azione. Comune 5-9 più in diretta e 5-9 più in sul Ponte. Buongiorno. Grazie, grazie anche a Chiazzana Piano di svolgere la prova presso il Comune di Goracetta. Il rapporto per te è 5-9 in diretti sul Ponte e 5-2 in diretta. Passiamo alla Joint Research Center di Ispra. Grazie a Chiazzana Piano di svolgere la prova presso il Comune di Goracetta. Operatore Jean-Michel, il rapporto per te è 5-9 sia sul Ponte e in diretta. Grazie. Grazie a Chiazzana Piano di svolgere la prova presso il Comune di Goracetta. Grazie a Chiazzana Piano di svolgere la prova presso il Comune di Goracetta. La confruttura di Varese per la 34esima prova di sintonia dei Comuni della Provincia di Varese. Passiamo al Comune di Ierago, Colorado. Quinto giorno, il stretto duota, bravo mai, Giovanni da Ierago. 5-9 più, 5-9 più in diretta. Grazie a tutti, buona e tanti. Grazie per le augure. Cambiamo, attendiamo a tutti gli amici orami d'ascolto. Il rapporto per te è 5-9 sia sul Ponte che in diretta. Comune di Nagioro. Grazie. Buona signora. Buona signora. Grazie. 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 Grazie Legione, tu arrivi abbastanza frusciato sul ponte, quindi ti do un 4-7, che è negativo invece in diretta. Municipio di Nonate-Cerpino. QSL da Italia Whisky2 Bravo Charlie Casserei, operatore Francesco dal Municipio di Nonate-Cerpino. Qui il tempo è solleggiato, una temperatura esterna di circa 5 gradi. Il rapporto per voi d'ascolto, per la prefettura di Varese, è sul ponte S9-60, in diretta R5-S8. Vi comunico che anche per gli altri colleghi che ascolto i rapporti sono più o meno tutti buoni. Vi comunico che qui nella prova di sintonia, presso il Comune-Municipio, c'è il signor Palla Giovanni della protezione civile di Nonate-Cerpino e il vice-sindaco, il signor Renzo Corvezzo, e che ringrazio per il suo interessamento alla prova, assieme alla sindaca Clara Dallapozza, architetto. A seguito di quanto precede, Italia Whisky2 Bravo Charlie Casserei, operatore Francesco, termina e passa alla prefettura di Varese, però salutando i due RGV Giannino, i 1-2 LFP Alberto e il prefetto che so che è uscito, il dottor Pasquarello. Grazie a voi. Grazie Francesco, ti chiedo tuttavia di ridarmi nuovamente i rapporti, perché nel secondo minuto di trasmissione non si sentiva niente, poi di colpo sei apparso forte e chiaro, quindi intanto il rapporto io vi do a 5-9 sul ponte e 5-8 in diretta, però ti chiedo di ridare i nostri rapporti, in quanto non sarei riuscito a sentire all'inizio. Grazie Francesco, passiamo ora al lato di ciucca di lozza. La prefettura da municipio di lozza con il buongiorno in Italia Whisky2 Eco, operatore Carlo, ha un 5-9 frequenza 1 e 5-9 sulla frequenza 2. Insieme a noi c'è il signor Beggiora, che è il coordinatore del gruppo comunale di protezione civile, che ci ha aperto il comune e ci ha alloggiato. Comunico che la sto viaggiando con una magnetica, in quanto non funziona l'antenna sul tetto. Sembra quasi che sia staccato il cavo direttamente. A Tergora, prefettura di Varese, da municipio di lozza. Grazie a Whisky2 EcoChill Oscar, abbiamo notato la segnalazione dell'antenna e provvederà il geometra, c'è già un accordo con il geometra comunale, affinché abbia risolto il problema, in modo tale da poter usare l'antenna stannata per la prossima volta. Comunque il rapporto per te è 5-9, sia sul ponte che in diretta. Comune di Luino. Grazie Domenico, tanti auguri anche a te e ai tuoi pari. Il rapporto per te è 5-9 sul ponte, 5-2 in diretta. Comune di Machirano. Intraverso il rapporto per te è 5-9 sul ponte, 5-9 sul ponte, 5-9 in diretta. Ok, tutto a posto, continuazione, devo augurare per tutti quattro. Grazie, Machirano, il rapporto per te è 5-9 sul ponte, 5-5 in diretta. Comunicchio di Marlate. Buongiorno, il dialogo per due India, 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 dal comune di Machirano, con il consigliere comunale e il responsabile della posizione civile. La segnale per voi è 5-9 sul ponte e 5-1 in diretta. Ok, grazie Magnate, grazie Silvia, il rapporto per voi è 5-9 sul ponte e 5-2 in diretta. A questo punto Italia, India, il front 2, Lima, Florida, Papa, operatore Alberto, cede il microfono a Italia Chilo 2, Whisky Radio Golf, qui nel prefettore di Varese. E quindi vi auguro buona continuazione e soprattutto buone feste. Ci risentiamo presto. Saluti a tutti, 73 e cede il microfono a Italia Chilo 2, Whisky, con il preparatore massimo. Perfetto, buongiorno a tutti. Grazie a tutti, ringrazio Alberto e Giannino e saluto tutte le stazioni che hanno già fornito i loro rapporti e che quindi proseguiranno questa prova soltanto con l'ascolto. Andiamo avanti allora col comune di municipio di Mazio, Italia Chilo 2, Delta Victor India, Marco. Marzio, Marzio, Marzio è ricevuto. Andiamo avanti, vediamo dall'unicipio di Mesenzana, Giorgio, Italia Chilo 2, Quebec, America, Sierra. Buongiorno a tutti. Ad arrivare anche in modulazione qui sul ponte? Sì, vediamo le tue resistenze, alzato un po' sulla potenza, ha riferito i vostri segnali, ci sono sempre sempre sul ponte, le cattive via. Perfetto, allora adesso è andata meglio, 5-5 il rapporto per te in diretta, Giorgio. Secondo passaggio più comprensibile. Grazie, un abbraccio Giorgio. Municipio di Montigrino, Val Travaglia, W2LJW. Aldo, Aldo, avanti. Buongiorno, vi sono in comune di Montaglino, Giorgio, 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 il rapporto per voi sul ponte 5-9, 5-9 in diretta. Buona continuazione per tutti. Perfetto, 5-5 per te sulla diretta, 5-9 sul ponte. Municipio di Monvalle, IZ1, America, November, Pango, Aldo, C6. Montvalle, Montigrino, Municipio di Mornago, Fabio, Italia, Unifor 2, India, Chilo, Giulietta. Buongiorno a tutti, Fabio, India, Chillo, Giuliet Prevento da veicolare perché la sala radio del comune Mornago non è regibile 5959, rapporto da 2 Ok, 5959, anche da 5-5 si validezza il tuo rapporto Municipio di Ozzona, Gonzanto Stefano, Generoso, Italia, 0-2, Chima, Chiro, Lima, Victor Buongiorno, 5959, con me c'è, dice l'Itapo, coordinatore della protezione, tanti auguri Perfetto generoso, grazie, 5-5 il tuo rapporto sulla diretta 5-9 sul ponte Grazie, saluto i presenti che sono oggi con te Municipio di Ozzona, Italia, Chilo, 2, Radio, Giulio, Delta Antonio, avanti Buongiorno al comune di Ozzona, Carta 2, Radio, Giulio, Delta Vi ascolto benissimo, 5-9 sul ripetitore e 5-9 in diretta Auguro buona festività a tutti i presenti, a voi per la settore, Carta 2 Grazie a tutti, arrivi fortissimo, 5-9 per 5-9 anche per te Ottimo, Municipio di Origio, Luigi, Italia, Chilo, 2, Lima, Oscar Radio Buongiorno al comune di Ozzona, Carta 2, Radio, Municipio di Origio, 5-9 il segnale per voi in ambito di modi Mi approfitto per augurare le buone feste a tutti quanti Buongiorno, di nuovo a voi, grazie a tutti Benissimo, Luigi, 5-9 il tuo rapporto sul ponte, 5-2 in diretta Municipio di Porto d'Altra Vaglia E' noi, Italia, 2, Chilo, 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 Chilo Buongiorno, rapporto 5-9, 5-9 sul ponte Una buona domenica a prefettore, una buona domenica a tutti E' comunico che il comune di Porto d'Altra Vaglia E' sprovvisto di antenna E' trasmesso da veicolare Ok, ricevuto ed annotato Ecco perché il segnale è sul ponte 5-9, 5-2 sulla diretta per TN Annotato Adesso andiamo avanti col municipio di Lancio Vaglia Dove dovrebbe esserci il patto Romeo, Italia, Wispi 2, Chilo, Chilo, Chilassarmi Sì, buongiorno, benvenuto a tutti Io è qui Stissimo 5-9 più più sia in televisione che in diretta E sono qui con me i rappresentanti del comune e della protezione civica Vi salutano e vi faccio gli auguri di buone feste E alla prossima voi dalla prefettura Ciao, ciao Grazie, ricambiamo gli auguri anche alle persone che sono lì con te E il tuo rapporto sul ripetitore 5-9, 5-5 invece sulla diretta Grazie Bartolomeo Allora vediamo dall'unicipio di Lanco Daniele Italia, Chilo, 2, Oscar, Bravo, Charlie Sì, col buongiorno a tutti, Chilo, 2, Oscar, Bravo, Charlie Rapporto per voi è 5-9 più più in tutte e due le frequenze E trasmetto dalla protezione civile Buongiorno a tutti e auguri di buone feste per tutti Chilo, 2, Oscar, Bravo, Charlie e anche protezione Grazie Daniele, è tanto che non ti ha ascoltato, è stato un piacere 5-9 per 5-9 anche perché arrivi fortissimo Grazie, un abbraccio Municipio di Satrio, una volta lo gestivo io Giovanni, Italia 2, X-Ray, Juul Hotel Italia 2, Zetacca, Giovanni Il mio municipio di Satrio 5-9 più e 5-9 più in tutte e due le frequenze Io direi che stanno a voi Benissimo Giovanni, 5-9 per 5-9 Un pochino bussata la modulazione Ok, però arrivi forte Anche sulla diretta del resto Siamo in alto, in montagna Grazie Giovanni, grazie San Gianno, municidio, Emilio, Italia 2, 1, Evo, Siena, Bravo Ci ascolti? San Gianno? Andiamo avanti Ferrovia Nord-Milano, Saronno, Rmfc, Luciano, Italia 2, Vittorio, India, Tango Buongiorno, Italia 2, Oscar, Alfa, Vittorio, Dottor Alessandro, Saronno, Rmfc, Saluto a tutti Un augurio naturalmente di buone feste per voi 5-9 senza alcun problema Sono in presenza di Italia 2, Vittorio, India, Tango Che sta gentilmente ospitato Perfetto, 5-9 per 5-9 per te 5-5 sulla diretta Correggo, 5-5 sulla diretta Ho saltato il comune di Morazione E me ne scuso Stefano, mi scuso Italia, Chilo Zero Nancy, Sierra, Ienchi Se ci sei, lasciamo spazio E per i rapporti Mi sono tolte dal comune di Morazione Per India, Chilo Zero, Nancy, Sierra, Ienchi Barato 2, Barato 2, Barato 2, Stefano Sto lavorando da solo presso l'ufficio tecnico Il rapporto della prefettura è 5-9 E ne ha più uno 5-9 in essere due Auguro a tutti e buon lavoro Onorata sede, Ienchi Grazie Morazione Mi scuso ancora, Stefano 5-9 su Ponte 5-5 sulla diretta Per te Mi scuso ancora Grazie, buon proseguimento Dunque Siamo a Saronno, Municipio Roberto Cicci Giordano Italio Whisky 2 Canada Novembre Radio Sì, perfetto Guardando la prefettura dal comando di polizia locale del comune di Saronno Presente con me il vice commissario Signor Giro Crivellaro Il rapporto per voi è 5-9 sul Ponte 5-4 in diretta Questa è la carta 5-4 in diretta, grazie Salutiamo i signori presenti di Conte Il tuo rapporto è 5-9 sul Ponte 5-5 in diretta Giordano Grazie Municipio di Sesto Calende Riccardo Italia 1 Golf X Ray Victor Buongiorno Riccardo Italia 1 Buongiorno La Polizia La Polizia di Sesto Calende 5-9 Sul da ripetitore 5-7 in diretta La progetto per passare I migliori auguri E con ultima parte Della pressione di Aurora Che rappresenta Con i miei due figli Tanti i tuori E radiomatori A te Precettura 1 Genova Stirofono Venezia 12 Sesto Calende Grazie Riccardo Ringraziamo E ricambiamo Gli auguri I tuoi rapporti 5-9 5-5 Sulla diretta Grazie Grazie ancora Sul via De Arno Municipio Gianvito Italia 2 2 Francia Ego Bravo Sì Buongiorno Buongiorno a tutti Qui Senta 2 Foxtrot Ego Bravo Vi sto trasmettendo Dal piazzale Resistante Del municipio Stamattina Purtroppo Non hanno Aperto i locali Probabilmente Ho visto Che stanno Preparando Qui Grande festa In piazza E Probabilmente Non impegnati Comunque Il rapporto Per voi 5-9 Sulla ripetitore 5-3 In diretta Auguro buone Feste a tutti Cambio A te Massimo In K2 Whisky Radio Growth Dalla prefettura Qui dal comune Di Solbiateano In Z2 Sette Grazie Giavito Gianvito Giannino ha preso Onore Dagli stiamo Che tu sia Fuori Comunque 5-9 Il tuo rapporto 5-5 Sulla diretta Grazie Per la tua presenza Incipio Di Solbiate Olona Aurelio Stario Whisky 2 Nensi Sierra Delta Sì Presente Io sono Aurelio Ad appunto Dagli auguri di 2 Novembre Sera Delta Io ci mi arrivate bene 5-9 5-9 Sul ponte Che In diretta Tutto a rio Tanti auguri Buone feste Grazie Aurelio Dicito i rapporti 5-9 Sul ponte 5-2 Sulla diretta Chi si ascolta bene Grazie ancora Un ciclo Di Somma Lombardo Dove dovrete Eserci Luca Italia Chilo 2 Oscar Delta Sì Grazie Buongiorno a tutti Questa è K2 Oscar Delta Delta Luca Da Somma Lombardo Città Dei Tre Leoni Mi ascolti K Bellissimo Ti hai rapporti Luca Sì ok Allora Massimo Ti ascolto 5-9 Fondoscala Sul ponte Ti ricevo Con un 3-1 In diretta Qui l'antenna Sul tetto Con una collineare 10 W La mia potenza Sono qua da solo E niente Vi ascolto tutti Molto bene La spostazione è ottima Fa un po' freschino qua Però diciamo che ci si sta Buon Natale a tutti Ne approfitto Saluto te Massimo Ache Giannino I K2 Oscar Delta Delta Luca Insomma Lombardo Città Dei Tre Leoni Vi saluto Ciao Grazie Luca Grazie Non siamo messi meglio Siamo tutti con Corbaccio Anche qui su Stiamo molto scelto Anche qui 5-9 Le 5-9 Il tuo rapporto Arrivi davvero forte Perfetto Andiamo avanti Municipio di Taino Dio Giacomo Italia Questi due Lima Charlie Alpha Quest'anno Questi due Cambiamo La scelta Di Taino Porto Ciaro 5-9 5-9 Presente Qui dallo studio Cazzulli Banca Che mi sta Scrivendo in lock E questo Lo ringrazio E poi La coordinazione Italia Visti Due In La scelta 5-9 5-9 Sto E Mino Perfetto Dio Giacomo La comune di Taino Sede Di un grande Campione di ciclismo Alessandro Povi 5-9 Per 5-2 I due Rapporti Grazie Dio Giacomo Buon proseguimento Andiamo a Tradate Dove dovrebbe Riciccarlo Italia Azzurro India Delta Tierra Carlo Ci sei Sì Ci sono Ci ha lavorato Una buona giornata A te Massimo Salutando il carissimo Giannino E salutando Anche Il Stato Quello Impondente Che Ha presunto Un posto L'Alberto Allora Io sono qua Con il mio Secondo Operatore W2LQF Michele Poi c'è Il coordinatore Di Ricerlo Andrea Vice coordinatore Toso Simone Da parte nostra Vi faccio i migliori auguri Faccio gli auguri Anche a tutti gli altri Ascoltatori W2L che sono Unita Ascolto A te Ancora Massimo Benissimo Carlo Saluta Michele Il tuo Secondo Operatore E le persone Che sono Presenti Lui con te Che solgono tempo Alla loro vita Privata Le famiglie Per poter Assistere E consentire Questa Importante Prova Di collegamento Periodica Che dalla Prefettura Facciamo con tutti I comuni Civarese Andiamo avanti Col municipio Di Travedola Monate Dove Luca Italia Chilo 2 Oscar Lì ma la radio Dovremmi ascoltarci Luca ci sei? Sì Buongiorno C2 Oscar Da Travedola Monate Il segnale Per te 5959 Sono Attualmente In compagnia Del coordinatore Della posizione Civile Ivano Giuliani Siamo Nel Precedente L'antenne È rimasta Nel precedente Stabile Del municipio Il municipio Di Travedola Si è appena Spostato E attualmente L'edificio È la scuola media Qua di Travedola Però direi che Funziona Perfettamente Tutto Anche L'antenna È posizionata Molto bene Sul tetto Quindi auguri A tutti IK2 Oscar Mima Romeo Travedola Colacca Bene Luca Abbiamo preso Nota di Guardi Ti sei detto Giannino È la conoscenza Della situazione Quindi va bene così Lo sappiamo Provederemo Bene Municipio di Tronzano Lago Maggiore Italia Uniforme 2 Radio Novembre Piedola Sei mano Ciascuti Buongiorno Da India Uniforme 2 Romero Novembre Sierro Operatore Stefano Presso Il comune Di Trottano Lago Maggiore Nella sala Consigliare Che attiene Alla sindaco Palmieri Antone Che ha dato L'accesso Vandogane Rapporto In S1 5 9 S2 0 A voi Mike Da India Uniforme Romero Vandansi Sierro Perfetto Stefano Non arriviamo Sulla diretta Quindi Intanto Ricambiamo i saluti Signor sindaco Che di Contè Passiamo ai rapporti 5 9 Sul ponte 5 5 5 Il tuo segnale Sulla diretta Mi confermano Andiamo avanti Con l'unicipio Di Bubbordo Dove Si trova Roberto Italia 2 Zulu Papa Non gioco Qui Sarai 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 In compagnia Italia 2 K.O.A. Con la presenza Del sindaco Il signor Tereci Luigi Che è stato gentile A priverà Il colore 5 9 I vostri rapporti Su tutti e due Sul ponte E sulla indiretta Accorgo L'occasione Per farvi Gli auguri A tutti Quelli Che ha Partecipato E Quelli No Over Perfetto Roberto I nostri saluti Mi auguri Anche al sindaco Di Conte Per quanto riguarda I rapporti 5 9 Sul ponte E invece 5 2 Il tuo segnale Sulla diretta Va bene Andiamo in Valcanna Municipio di Valcanna Italia Chilo 2 India Lima Whisky Maurizio Mi ascolti La scena Mi sento Purtroppo Non fuori La scena Mi sento La scena Ma è in volo Capito Di Babilchi Un 4 7 Il segnale Del ponte 0 Di diretta Capito Di Babilchi Ma è in volo Ma è in volo Non si riesce A comprendere La tua modulazione Si vuoi riprovare Un attimo Maurizio Per aumentare Un attimo La patenza Non riusciamo Ad ascoltarvi Nulla da fare Valcanna Dunque Non lo ascoltiamo Ciao Maurizio Se tu riesci Ad ascoltarci Passiamo Al municipio Di Barano Borghi Dove C'è Massimiliano Italia G1 2 Uniform Radio Sierra Buongiorno Al comune Libra Per voi 5 9 in diretta 5 9 Più più Sul ponte Sono presenti Con me Il sindaco E il responsabile Della protezione Civile Saluti Auguri a tutti A voi Per fettura Grazie Massimiliano I nostri saluti I tuoi ospiti Arrivi benissimo I tuoi rapporti Sono 5 9 Per 5 9 Anche sulla diretta Ottimo segnale Davvero Croce rossa Di Varese Alessandro Alessandro Italia Uniform 2 Bravo Giulio Tango Alessandro Ci ascolti Andiamo avanti Con i vigili Del fuoco Di Varese Francesco Italia Whisky 2 Potem Mike Tango Ok Ripeto Il mio tema Che Francesco Il capo squadra Ti do Un 5 9 Più E un 5 9 Indiretta Grazie Francesco I saluti Di Giannino Ci aspetteremo Anche Facciandoci Dalla finestra Credo E va benissimo Così Proviamo Adesso Col Municipio Di Venigolo Inferiore Dove Si trova Angelo Italia Uniform 2 Lima Victor Sierra A me Dove Sera Porta Presenza Con presenza Di Giovanni Volentario Della protezione Civile Di Venigolo Sono nel locale Protezione Civile E comunque Rivalte In fondo Scala Sia in Diretta Che in Ponte A noi Angelo Allora I due rapporti Sono 5 9 Ponte 5 5 5 Sulla Lirezza Grazie Per la Tua Partecipazione Torniamo In montagna Vigiu Antonio Italia 2 Odel Mike Zuri 2 6 5 6 Municipio Di Biciu Da Biciu Non risponde Nessuno Ivan al municipio di Vizzola a Ticino, Italia Whisky 2, India, Papa Mike. Sì, Giannino, anche i tempi da un rapporto di 5, 9 su tutti i due le frequenze, sono in presenza del sindaco Nerviano, Roberto che ci ha cercato il suo ufficio, ci vi saluto e vi auguro buona festa a tutti voi. E ricordi non mi la dico, per cortesia. Italia Whisky 2, India, Papa Mike, operatore Ivan. Ok, Ivan, grazie. Allora, 5 lauree sul ponte, 5, 2 sulla diretta. Grazie, Ivan. Ok. Allora, proviamo un attimino a richiamare a Cisade se riesce a farsi ascoltare. A Cisade, avanti. Bene, ok. Allora, per il momento ringrazio tutti gli operatori per essere stati presenti a questa prova. Ripasso il microfono a Giannino per la chiusura e per i saluti e porto i miei più cari e affettuosi auguri a tutti gli OM che hanno preso parte e mi assorso agli intenditi Giannino per quanto riguarda i carissimi colleghi che purtroppo non sono più tra noi e queste festività, la loro mancanza, ovviamente, si fa più pesante. Personalmente festeggio ogni mio compleanno, solo Giannino poteva presentarmi in sala radio, ma sono contento di festeggiare questa ricorrenza con tutti i miei fratelli OM. Grazie a tutti e serene feste alle vostre famiglie. Grazie a tutti. Scusate per il caso presente Va bene, signore, vi ringrazio di aver seguito anche quest'anno questa prova. Non è stata molto semplice prepararla. Grazie ad Alberto, LDA, che il Comune Varese ha fatto la prova, che il suo lavoro è stato una cosa molto lunga, non è semplice fare queste cose. Vi ringrazio tutti e auguri di buon Natale. Due Roma, Genova, Venezia. Chiudo. Giannino, scusa un attimo, ti saluto e ti faccio gli auguri. Qui, paglia 2, KVA. Ciao Giannino. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 che piacere, grazie. Buongiorno, signori, qui dal VDOP1, CKVN, chiude, smonta e vi augura un buon Natale. Felice anno nuovo a tutti. ringraziando voi Sì, avanti, chino 2, che chiedeva se qualcuno l'ascoltava Sì, grazie, 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 grazie Grazie, 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 grazie Grazie, 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 grazie Grazie, 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 grazie Grazie, grazie 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 Grazie